Andrea, posso chiedere a te, in base anche a come si è toccato, al tipo di reazione che ha avuto, di che cosa si tratta? Da guardare le immagini dove è stato posizionato il ghiaccio, sembra il tendine, può prendere un po' la parte del storio, quindi non so se è muscolare o tendine, o magari aveva già fastidio prima della partita, forse il campo non ha aiutato, il freddo non ti aiuta, e magari si è rinfiammato un po' il tendine, sperando che non sia niente di grande. E quindi chiaramente sapremo anche di più nel corso del secondo tempo, con il nostro Tommaso Turci, con Davide Bernardi, vi daremo anche degli aggiornamenti.